È stato un bellissimo weekend, ma invece di essere fuori a divertirmi, sono bloccata a casa. Per cosa mi chiedete? Per insegnare Excel ad una che non sa nemmeno come usare le scorciatoie del tasto Shift. Qual è il tuo problema? Ti ho già spiegato il codice 20 volte. Io... mi dispiace... Diciamocelo. Fai schifo in questo. Prova a battermi nel tuo sogno. Se dovevo stare un altro secondo accanto a lei, sarei diventata matta. Guarda quanto sei falsa. Se sei furiosa, allora mostramelo. Perché devi sempre fare la tipa amichevole? Lasciate che ve la presenti. Lei è Lara, la mia cosiddetta sorella. Due mesi fa, mia madre la portò a casa, annunciando... Jeff, ho qualcosa da dirti. Quando ci siamo lasciati a causa dell'odio dei tuoi nei miei confronti... Beh, in quel periodo ho scoperto di essere incinta. Ho dato alla luce la nostra bambina, Lara. Avevo solo 22 anni e... non avevo soldi. Così, per quanto mi dispiacesse farlo, l'ho data via. Non ho mai smesso di pensare a lei. E ora... beh, sono riuscita a trovarla. Si tampono gli occhi pieni di lacrime, poi diede a papà il test del DNA. Papà era sopraffatto e corsi ad abbracciare Lara. Tutti piansero forte e si abbracciarono forte. Quanto a me, rimasi solo lì in silenzio scioccata, mentre guardavo questa riunione di famiglia. È successo così in fretta. Come potevo credere fosse una coincidenza che mamma avesse ritrovato la sua bimba perduta da tempo dopo così tanti anni. E adesso, Skylar? Smettila di essere così testarda! La mamma mi rimproverò. Poi si precipitò da Lara e iniziò a coccolarla, accarezzandole i capelli. Non è colpa mia se ha una scarsa capacità di apprendimento. Non interferire o smetterò di insegnarle. A proposito, anche quelle cose amorevoli madre-figlia... Smettila, è ridicolo! So cosa state pensando. Cos'è questo atteggiamento verso mia madre? Il fatto è che non è la mia vera mamma. Qualche mese fa mi è successa una cosa pazzesca. Una sconosciuta è apparsa dal nulla e ha affermato di essere mia madre. Cosa? Ovviamente le dissi di aver sbagliato persona. Ma quando vidi il contratto di vendita tra mia madre e lei, mi bloccai scioccata. Scoprì che mia madre aveva abortito un bimbo, ma temeva di perdere il suo posto in questa famiglia. Così mi comprò da questa donna. Quindi, fui adottata. È comune, no? Ma comunque, non merito di essere trattata così. Sono sempre stata trascurata, fin da piccola. Mamma non mi abbracciava o baciava, non mi leggeva le favole, non mi metteva a letto la sera. Non faceva altro che ringhiarmi contro. Vai via! Credo di essermi autoconvinta che la mamma fosse così. Ma poi arrivò Lara, e con lei la mamma è completamente diversa. Ora capisco, capisco perché mi trattava freddamente, e perché non ero felice anche se sono cresciuta nell'agiatezza, perché questo non era il mio posto. Dopo l'incidente con la donna, affrontai mamma su questo. Ho capito, so che non sono la tua vera figlia, ed ecco perché pensi di potermi trattare come spazzatura. Oh, ti prego, basta con i drammi. Lasciami dire questo, anche se mi hai adottata, dimostrerò comunque la mia efficienza a papà, e prenderò le redini dell'azienda da sola. La mamma rimase zitta dopo aver sentito. Poi, non molto tempo dopo, si presentò con Lara. Credo che non ci sia stata alcuna coincidenza. Ha riportato Lara per competere con me. E se questo fosse vero, allora, di cosa dovrei avere paura? Come state, ragazze? Skylar, stai ancora aiutando Lara con i suoi studi? Sì, papà. Mi aiuta ancora ogni giorno. Grazie mille. Ok, è ottimo. Quando avrai superato le basi, dovresti seguire qualche altro corso. Fai del tuo meglio e cerca di seguire tua sorella. Non potrà essere brava come me, neanche nel suo sogno più sfrenato. Lara è molto sveglia. Sarà presto al passo con i tempi. Le sto anche insegnando gli affari di famiglia. Eh? La mamma le insegnerà di più per competere con me. Ovviamente vedevo la sua avidità e competitività. Ma comunque sia, io e Lara siamo a due livelli del tutto diversi. Io sono un'eccellente studentessa alla Columbia Business School, mentre lei è una nullità senza istruzione. Pfff! Dai! Non ho assolutamente nulla di cui preoccuparmi. Mamma la costringe a studiare, ma... Vedi? Quanto a mamma, si comportava in modo strano. Un minuto prima mi tratta come una macchia ostinata che non va via. E quello dopo cerca di sistemarmi con un tipo di nome Dean. È il figlio del suo collega super ricco. Non capisco perché d'improvviso sente il bisogno di trovarmi un ragazzo. E papà non aiutava la situazione, dato che invece di dirle di smettere di giocare alla combina matrimoni, la incoraggiava. Ah! Ok, volevo che smettessero di infastidirmi, così alla fine accettai di parlare con questo Dean. Ma non smetteva di mandarmi messaggi, e si è anche presentato a casa mia. Mmm, suppongo che sia bello e simpatico, ma non è il mio tipo. Quindi gli parlai solo per educazione. Finché una volta vidi Lara lanciare occhiate a Dean mentre mi aspettava nell'atrio. Aspetta, non dirmi che le piace Dean. Oh beh, può prendersi i miei avanzi, tanto non mi piace questo tipo. Poi un giorno camminavo nel corridoio quando ho ricevuto un sms da Dean. Skylar, sei libera domani, ceniamo insieme. Stavo per rispondere, quando d'improvviso ho sentito mamma e Lara litigare. Cosa c'è di male in te, Lara? Perché stai uscendo in segreto con quell'idiota? Perché non Dean? È un bravo ragazzo. Inoltre mi ha detto che non c'è niente tra lui e Skylar. Quindi Dean ci sta tradendo. È uscito di nascosto con Lara mentre flirtava con me al telefono tutto il giorno. Che succedeva? Cercai di mantenere la calma per poter ascoltare. Tu sei pazza? Smettila subito con questi stupidi appuntamenti segreti. Cosa? Perché la mamma insisteva che lui è un bravo ragazzo per me, ma diceva a Lara il contrario? Beh, mamma, allora? Dean è un buon partito come hai detto a me o un idiota come hai detto a Lara? Lui è ricco, quindi continua ad uscire con lui e smettila di infastidirmi con le tue sciocchezze. Non sono nata ieri. Di sicuro c'è qualcosa che non va con questo Dean. Il giorno dopo decisi di andare a seguire Dean. Oh mio Dio! Cosa indossava? E perché andò in questa baracca? Poi si unì con altri delinquenti. Quindi è ovvio, Dean era proprio un ragazzo di strada. Quindi mamma non aveva permesso a Lara di avvicinarsi a lui. Ma perché lo ha affibbiato a me? Potrebbe essere una parte del suo piano per sbarazzarsi di me. Ah, bel tentativo! Avevo spiato abbastanza, così stavo per andarmene. Ma all'improvviso sentì una voce familiare che mi spaventò. Mi girai e... Cosa? È... Mamma! Come osi rovinare il piano? Bada come parli. Ho fatto ciò che hai detto. Ti avevo detto di flirtare con Skylar per distrarla, non con Lara. Non pensare che ti dia un centesimo di più. Bene, non pagarmi. Assicurati solo di farmi una foto della faccia di tuo marito quando vedrai il vero risultato del DNA nell'e-mail. Tu... 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 Oh mio Dio! Ho sentito male! Quali risultati del DNA? Potrebbe essere... Andai subito a casa e corsi nell'ufficio del papà per cercare il risultato del DNA che mamma gli aveva dato quel giorno. Eccolo! Cosa dovevo fare ora? Esatto. Devo portarlo all'ospedale per farlo controllare. Dopo aver pagato e messo pressione al dottore finalmente ammise di aver accettato una tangente da... Dean per falsificare il risultato. Chiesi quello originale e... che ci crediate o no? Lara non era la figlia di mio padre. Mi precipitai a casa e mostrai a papà i risultati originali. Era così scioccato che ho dovuto aiutarlo a sedersi e gli portai dell'acqua. Superato lo shock iniziale mi feci chiamare Lara e mamma per confrontarsi con loro. Ma... Oh no! La stanza di Lara era vuota. C'era solo una lettera sul letto. Scusate tutti. Dean mi ha detto la verità. Grazie per esservi presi cura di me. Specialmente tu Skylar. Onestamente mi è piaciuto stare con te. Penso che tu sia gentile e paziente. Per favore non cambiare mai. Non appartengo al tuo mondo. Quindi non posso restare. Se siamo predestinati ci incontreremo ancora. Grazie e scusa ancora. Con amore. Lara. Incredibile! Come hai potuto mentire a tutti noi su una cosa del genere! Sapendo che non poteva cavarsela, la mamma rispose e... Ok, Lara non è tua. Sono rimasta incinta di lei dopo esserci lasciati. Non volevo che mi buttassi fuori. Così ho pagato Dean per avere un falso risultato. Poi l'ho pagato per uscire con Skylar e distrarla dagli studi. Questo business dovrebbe essere di Lara e non suo. Ma quell'idiota si è innamorato di Lara invece! Povero papà, sembrava così affranto. La mamma l'ha supplicato di perdonarla. Ma lui le ha detto che non si fidava più e che doveva andarsene. È tutto un gran casino. Il povero papà si è chiuso nel suo ufficio. Mentre io sono sul letto a fissare il soffitto. Continuavo a pensare a tutte le bugie di mamma. E per cosa? Soldi? Fama? Status? Vale la pena sacrificare la dignità, l'onore e la fiducia per queste cose? Anch'io volevo competere con Lara. Ma venne fuori che tutto questo era solo passeggero. Papà, dovrei andarmene anch'io. Perché neanch'io sono tua figlia biologica. Tu, tu, tu... Lo so da un po', ma sono stata zitta perché temevo mi avresti abbandonato. Grazie per esserci stato sempre per me. Sei un brav'uomo e non meriti tutto il dolore che hai passato. Poi gli raccontai di come scoprì di essere stata adottata. E di come mamma pagò la mia vera madre per consegnarmi a lei. Papà si bloccò per alcuni secondi. Poi disse con calma... Skylar, tesoro, sarai sempre mia figlia e non potrei essere più fiero di te. Ti prego, resta qui con me. Non riuscivo a trattenere le lacrime. Papà mi voleva davvero con sé, anche dopo tutte queste cose folli. Voglio davvero bene a mio padre, ma non potevo più turbarlo. L'indomani io e papà andammo dalla madre adottiva di Lara. Chiarii la situazione con lei e la invitai a tornare con noi. Lei rifiutò gentilmente. A quanto pare vuole solo una vita semplice. Ci vediamo qualche volta e siamo diventate buone amiche. Non è incredibile, perché dall'inizio eravamo come l'acqua e il fuoco. Il fatto che non devo più insegnarla a Excel probabilmente aiuta. Ci sono quelli che fanno di tutto per ottenere fama e fortuna, ma spesso questo ha un costo. L'avidità ha reso la mamma un mostro e ora sta pagando le conseguenze. Non mi piace ciò che ha fatto, ma è ancora mia madre. Beh, la mia madre è adottiva comunque. Quindi le mando ancora dei sussidi e le auguro di essere felice nella vita. La verità è che preferisco rinunciare a un'enorme fortuna e vivere una vita tranquilla, piuttosto che diventare chi non voglio. Al mio posto fareste lo stesso per vivere in pace?